ciao a tutti ragazzi in questo video vediamo come coltivare le cipolle che iniziano a germogliare per procurarci gratis dei cipollotti da utilizzare nelle nostre ricette per prima cosa due consigli sul terriccio va benissimo qualsiasi terriccio sia universale che da orto l'importante è che sia morbido e ben drenante il vaso non è un problema vanno benissimo vasi rotondi di diametro dal 20 in su per questo video sto utilizzando un vaso del 30 dove metterò tre cipolle mettere a dimora le cipolle è semplicissimo basterà sotterrarle lasciando fuori terra il germoglio la posizione ideale deve essere luminosa ma lontano dai raggi del sole e le annaffiature devono essere fatte una volta a settimana dopo circa un mese e mezzo le cipolle saranno pronte per essere raccolte raccogliamole e portiamole in cucina le cipolle raccolte vanno pulite eliminando i ciuffi la parte delle radici esplodiandole fino alla parte bianca che sarà il nostro cipollotto grazie a tutti grazie a tutti da una cipolla in media si possono ottenere da uno a tre cipollotti che possono essere utilizzati per preparare degli ottimi soffritti e non solo per questo video è tutto se il video ti è piaciuto lascia un like se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao